Ciao bambini! Oggi faremo insieme un lavoro di arte utilizzando i colori caldi e i colori freddi. Vi piace questo disegno? Insieme vi mostrerò come poterlo realizzare anche voi. Innanzitutto partiamo nel dire che i colori caldi sono tutti quei colori che hanno le tonalità che vanno dal giallo all'arancione, rosso, rosa. Quindi sono quei colori che sono associate alla luce del sole e al fuoco. Invece i colori freddi sono tutti quei colori che vanno dalle tonalità dell'azzurro, blu, verde, verde, chiaro, verde, scuro, viola. Perché associati all'acqua e alla luce lunare. Allora, innanzitutto per fare questo lavoro occorre pochissimo materiale. Anche qua un foglio e colori. Meglio se matite colorate. Ok? E innanzitutto si disegna il soggetto che si vuole fare. Io in questo caso ho scelto il sole e la luna. Ok? Poi dividendo questo foglio a metà e facendo delle righe. In questo caso righe oblique, curve, che rappresentano il raggio e qua lo sfondo. Ma posso decidere anche di fare un altro soggetto. Ad esempio, guardate questo pesciolino. Quindi mi disegno innanzitutto il soggetto che voglio fare, quindi il pesce. E poi lo sfondo. Vedete che ho creato lo sfondo sempre con delle linee curve. Che sembra il mare. In questo caso, anche qua, possiamo decidere di colorare il pesce con colori caldi. Ok? E lo sfondo poi lo colorerete con i colori freddi. E l'effetto viene molto carino. Vi faccio vedere altre idee e altri soggetti da poter disegnare. Qua, ad esempio, abbiamo una conchiglia sempre con lo sfondo. Vedete che le linee non vanno sul disegno, ma sono soltanto all'infuori del disegno. Quindi proprio come sfondo. Potete fare, potete creare la stella marina. Poi qua mancano le linee. Potete creare il polipetto. O potete creare anche il cavalluccio marino. Ecco, in questo caso, vedete, le linee vanno sopra il disegno. Però, anche qua, possiamo decidere. Potete decidere se colorare il soggetto con colori caldi o freddi e lo sfondo del colore. Ad esempio, cavalluccio marino, colori freddi, lo sfondo colori caldi. O viceversa. Cioè, o al contrario. Ok? Quindi dovete giocare sempre su figura e sfondo. Poi, un altro esempio potrebbe essere questo. Da dividere il vostro foglio in quattro parti. Per dividere vi potete aiutare anche con le pieghe del foglio. Quindi piegate il foglio, ok? Vi aiuta, questo vi aiuta. Io, essendo primavera, ho scelto come soggetto i fiori. Ho disegnato, anche così, si può guardare, possiamo guardarlo come vogliamo. Ho scelto quattro fiori, ho fatto le linee. Nel primo ho scelto di fare il soggetto con i colori freddi e lo sfondo colori caldi. L'altro invece viceversa, vedete? L'effetto comunque è carino. Io ho scelto i fiori. Voi potete scegliere un altro soggetto o ancora possiamo cambiare, anzi potete voi, cambiare le linee. In questo caso ho fatto un tulipano, ma lo sfondo ho deciso di fare delle linee rette. Invece questo è una farfalla e ho deciso di fare delle linee, diciamo a caso. Non c'è una regola precisa dove si creano degli spazi non regolari. Anche qua stavo iniziando a colorare con i colori freddi la farfalla e lo sfondo colore caldo. Spero che vi sia piaciuta questa attività. Prima di concludere vi faccio vedere uno schema in cui vi fa vedere tutte le sfumature dei colori freddi, che è questo lato del cerchio, vedete? E vanno dai colori scuri ai colori chiari. E l'altra metà del cerchio invece sono i colori caldi. Quindi questo schema vi aiuta a capire quali colori potete usare. Ok, spero che vi sia piaciuta e buon lavoro! Aspettiamo i vostri capolavori! Ciao!